Capo Horn, nave Amerigo Vespucci ha passato Capo Horn col vento in poppa come veri marinai. L'emozione è tantissima, quasi surreale. 41 ore fa eravamo a Punta Arenas, siamo partiti con l'obiettivo di provare a fare il passaggio a sud del continente sudamericano. Sono orgoglioso di voi, sono orgoglioso di quello che avete fatto, sono orgoglioso del percorso che ci ha portato qua. Grazie.